ciao a tutti voglio presentarvi dei nuovi arrivi che presto arriveranno in vendita nel nostro negozio autolette del gomitolo punto com abbiamo nero lame 1861 ecco vedete come luminoso nulla me argento per i quattro e mezzo uncinetto 4 poi abbiamo questo che durato dorato 1859 anche questo si lavora con ferri 4 e mezzo uncinetto 4 poi abbiamo questo qua ecco eleganza mille otto e trentasei ferri 5 e mezzo uncinetto 4 4 e mezzo ecco mi farò vedere come bello soffice e morbido poi abbiamo questo qua fior di latte che lana seta 50 lana 50 seta e si lavora con i ferri 5 e uncinetto 4 e mezzo se non so se riesco a far vedere l'ocentezza della seta vediamo perché se non vicino ecco poi abbiamo quest'altro colore azalea 1792 50 lana 51 e r5 uncinetto 4 ecco vedete sono morbidi poi abbiamo questa fantasia guardate quanto è bella carbone magico 1834 ferri 4 e mezzo uncinetto 4 per farvi vedere quindi particolare vediamo se si vede ecco poi abbiamo questi qua con la meta ametista la ben mille otto e sessanta per i sei uncinetto 5 ecco non so se riesco a farvi vedere bene vedere bene la lucentezza vedete abbiamo quest'altro colore verde azzurro la mezzo mille otto e cinque per i sei uncinetto 5 ecco vedete per i sei uncinetto 5 questi sono in lana alpaca notte stellato per i sei uncinetto 5 il granito la mezzo mille otto e cinquantacinque ferri sei uncinetto 5 sempre alpaca lana colone vedete poi voglio farvi vedere queste matasse ecco se riesco a farvi vedere bene sono matasse da 100 grammi questa è pura lana merino per i dieci uncinetto 8 ecco pura lana merino nero cerco di farvi vedere il più possibile poi abbiamo un'altra altra matasse sono anche queste matasse da 100 grammi ecco vediamo se riesco a farla vedere bene sono vedete sono morbidissime queste cinquanta lana cinquanta alpaca panna mille otto e sessantadue ferri dodici uncinetto 10 ecco vediamo se riesco a farvi vedere meglio questi e altri filati li troverete nel nostro negozio autolette del gomitolo.com grazie a tutti alla prossima grazie a tutti